E quindi, meno cinque giorni al voto del 4 di marzo, il nostro ospite oggi è il coordinatore nazionale di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, ben arrivato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Massimo. Buon pomeriggio, lei. Noi con l'Italia è la quarta componente del centro-destra, non è una quarta gamba, giusto? Mamma mia, tutta questa campagna elettorale a un certo punto mi è venuta in mente che abbiamo sbagliato nome, e se ci chiamavamo quarta gamba avevamo una notorietà pazzesca e quindi non avevamo più il problema di... Però tendenzialmente i nomi ancora qualcosa possono dire, per noi, noi con l'Italia, è anche un segno di posizionamento e di proposta della nostra politica, noi non siamo con Salvini, con Meloni, con le leadership, con Berlusconi, eccetera, ma è un tema in cui forse la politica deve tornare, non tanto ad avere Maradona che salva tutti e che fa tutti i gol per gli altri, ma a rimettersi in gioco e a capire che o si mette al servizio dell'Italia oppure ci scordiamo la politica. Lei intanto è tornato con Berlusconi, dopo l'esperienza di governo Letta, dopo l'esperienza per qualche anno del governo Renzi. Sono tornato come è giusto che sia, nella coalizione di centrodestra una volta terminata quella che io ho da sempre definito un'esperienza di governo non politica ma istituzionale. So che poi Giannini mi tirerà le orecchie, perché ne abbiamo già discusso altre volte, questa domanda in Germania piuttosto che in Spagna non si pone. Nel momento in cui non c'è una maggioranza politica e si decide di fare un governo di tipo istituzionale, di larga intese, piccola intese, media intese, eccetera, finita quell'esperienza non è che uno si fa e si presciulze se presentato con la Merkel agli elettori. Ognuno torna giustamente agli elettori dopo che si era preso una bella sconfitta quattro anni prima a dire dateci la maggioranza politica e il mio luogo naturale per la mia storia, per la mia proposta e per la mia identità è il centrodestra, non ritorno in Forza Italia ma con il coraggio di noi con l'Italia. Verrebbe da dire non le è bastata l'esperienza passata, i tre governi che avete fatto insieme, però al di là di questo, onorevole Lupi, il punto è un altro secondo me. Oggi questo centrodestra è molto molto diverso da quello nel quale lei ha militato nei tre precedenti governi, perché allora c'era, ammesso e non concesso che Berlusconi si possa considerare un moderato, però comunque aveva saldamente in mano le redini di quella coalizione. Oggi i rapporti di Forza sono, se non invertiti rispetto alla Lega di Salvini, quantomeno paritari. E allora lei che cosa ci sta a fare in una destra che vira più verso, neanche si può dire verso le penne, ormai verso Orban, cioè verso l'Ungheria, come fate vivere la moderazione? Chiarezza per chiarezza, i rapporti di Forza intanto lo decidono gli elettori. Sì, stando ai sondaggi. No, 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 d'accordo, ed è per questo che se uno crede che per la stabilità e la forza di una democrazia in un paese sia necessaria una proposta politica moderata di centrodestra, ognuno conservatrice, cioè gli aggettivi possono essere n, e crede che fortemente questo serva, entra nella coalizione di centrodestra e si propone proprio per ribilanciare con la sua proposta, con le credibilità dei programmi, spero anche con la credibilità della storia, per ribilanciare, per dare l'opportunità agli elettori moderati di dire la coalizione di centrodestra è importante, non nessuno di noi raggiunge il 51% da solo, ma c'è bisogno che abbia, come è stato negli anni precedenti e nella gestione precedente, un grande, forte pilastro moderato. Forza Italia non lo rappresenta totalmente più, avevamo il 39%, adesso Forza Italia 16, 15, 17%, c'è bisogno di qualcuno che inizia a dire guardate che c'è anche un modo di fare politica nel centrodestra, che non ti permette miracoli e che ha il coraggio di rimboccarsi le maniche e di risolvere i problemi. Dalla tassazione, noi abbiamo messo due paroline che nessuno ha notato, ma è sempre grazie alla Quarta Gamba nel programma dei 10 punti. Stavolta l'ha detto lei, Quarta Gamba. Esatto, 10 vero, ormai sì, ormai è così, siamo la Quarta Gamba, noi con l'Italia, dei 10 punti che abbiamo sottoscritto. Due paroline che per noi sono fondamentali, economicamente e socialmente sostenibili. Fornero, si riscrive alla Fornero, deve essere economicamente e socialmente sostenibili. Che vuol dire? Che la Lega ha diritto a dire che abbassiamo l'età pensionabile, ma tu, visto che la legge elettorale te lo permette, è un proporzionale più un premio di maggioranza, dici che i 67 anni non si toccano, che la riforma delle pensioni deve andare a rispondere ai problemi che la legge Fornero ha avuto. 60 anni, perdi il lavoro, non puoi fare il disoccupato a vita. Ma oltre ad aver messo queste paroline nel programma, ha parlato con Salvini? Certo. Cosa le ha risposto in merito? Salvini chiede e giustamente dice, io voglio dagli elettori del centrodestra avere la guida e la leadership della coalizione, come? Prendendo un voto più degli altri. Se la democrazia è fatta in questo modo, se tu hai un voto più degli altri, io ne devo prendere atto. Ma proprio per questo, secondo noi, nella coalizione di centrodestra, c'era bisogno di una proposta come la nostra. Non per impedire a Salvini di prendere un voto di più, ma per dare forza e prendere anche elettori che non si sentono rappresentati né da Salvini né dalla Meloni. Lei è un cattolico, ha fatto tante battaglie in nome del cattolicesimo democratico. Che effetto le ha fatto Salvini che in un comizio agita di fronte alle folle il Vangelo e poi il Rosario? Direi che la mia nonna mi ha sempre i proverbi... La vieca campagna elettorale. Sì, ma i proverbi servono sempre, sono la saggezza di questo paese. E la mia nonna mi ha sempre detto, ricordati, scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Grande regola nella vita, grande regola anche nella politica. Mai tirare per la giacca o per la tonaca la chiesa, in questo caso. Quindi, credo che Matteo Salvini abbia sostituito il Bossi che andava a giurare alle foci del fiume Po e giurava sull'ampolla. Però lui era coerentemente laico. Salvini è stato laico fino a tre giorni fa, quando all'improvviso gli è uscito fuori questo rosario. Non rincorro nessuno, né nella sua laicità né nella sua cattolicità. Credo che faccia quello che vuole Salvini e usi i metodi più opportuni per lui per raccontare il suo posizionamento politico. Noi usiamo altri metodi. Non ricordiamo Casa Pound, per chiarirci. Ho visto che Matteo Salvini ha fatto oggi marcia indietro su questo tema, nel senso che la coalizione di centro-destra è fatta da quattro proposte politiche. Abbiamo condiviso dei punti in comune. Gli elettori decideranno quale sarà l'asse portante di questa coalizione di centro-destra. Non c'è bisogno di rincorrere e né ci appartiene culturalmente, politicamente, le proposte di Casa Pound. Quindi chi sta nella coalizione di centro-destra, non lo dico io, ma è quello, se no ne facciamo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27 proposte. E quindi lasciamo Casa Pound al suo destino. Però Salvini, per esempio, per restare a Salvini, scusi, ma è chiaro che... Parliamo di noi con l'Italia. No, adesso ci arriviamo, però la dialettica dentro la vostra coalizione è forte. Salvini non ha detto non voglio quei voti. Ha detto non ne ho bisogno, che è una cosa molto diversa. Perché un conto è dire, io quei voti, loro me li offrono, non li voglio, non mi votate fascisti, no grazie. Altra cosa è dire, non ne ho bisogno perché tanto di voti me li prendo per conto mio. Sono due cose... A me non sembra una retromarcia, a lei sembra una retromarcia. Sì, perché io guardo la realtà, la coalizione di centrodestra può governare il paese e chiedere in questi giorni ulteriormente la maggioranza politica, perché noi abbiamo bisogno di una maggioranza politica per dare stabilità all'Italia, agli italiani. Con le sue proposte che sono differenze e unite da un programma che abbiamo sottoscritto. Non abbiamo bisogno di altri, abbiamo la forza della nostra coalizione. Se non raggiungiamo la maggioranza vuol dire che non siamo stati in grado di convincere gli italiani a votarci. Però ieri Salvini diceva il 5 di marzo, dialogo con tutti, e oggi ha corretto il tiro in un'intervista dicendo che non ha bisogno di quei voti. Ma lei si fida di Salvini? Io mi fido del... a parte il fatto che noi con Matteo Salvini e con la Lega governiamo, le dice uno che è a Milano, in Lombardia, governiamo in Lombardia, governiamo in Liguria, governiamo in tante città. Però la Lombardia era quella di Maroni, non quella di Salvini. E comunque il segretario dal 2013, quando Maroni è stato eletto presidente della regione, è diventato Salvini. Quindi la politica e l'indirizzo politico, il sostegno politico a quella giunta, le linee di quella giunta Lombarda, sono assolutamente determinate dal segretario politico. E quindi noi, io mi fido perché governiamo. Quando si governa è diverso che in campagna elettorale. In campagna elettorale uno usa i toni migliori che piacciono a lui. A me piacciono dei toni molto seri, bassi. Abbiamo bisogno di abbassare i toni e di ritornare a parole che sembrano scomparse. Metodo, non contenuto, equilibrio, serietà, è inutile promettere miracoli, eccetera. Ma lui, ognuno usa i toni che vuole. Quando devi governare, la responsabilità di governo è quella che dimostra se sei capace e credibile nella tua proposta. Quindi Liguria, Lombardia, eccetera, dimostrano che ci si può fidare reciprocamente. Equilibrio. A proposito di flat tax, noi con l'Italia dice solo per il ceto medio. Spiega meglio che significa. Noi diciamo che l'obiettivo dei 5 anni ci si sta proponendo di governare il paese dal 2018 al 2023. L'obiettivo di tutti è l'abbassamento della pressione fiscale. La flat tax, come tra l'altro oggi spiega anche Nicola Rossi, è uno degli strumenti, una formula, qualcun altro penso un altro, perché questo abbassamento sia equilibrato e possa avvenire. La flat tax ha dei costi, ovviamente. L'aliquota non è quella del 15%, è quella del 23%, ha dei costi importanti. Secondo voi il 23%? Perché Salvini dice che è il 15%. Ma siccome noi guideremo la coalizione, noi e Forza Italia, Forza Italia primo, e noi con l'Italia guideremo la coalizione del centro-destra, sarà al 23%. L'aliquota è quella che dite lì. Sarà al 23%. Siccome non è pensabile che nei primi 100 giorni si metta l'aliquota al 23%, chi lo dice, chiunque sia, ti sta dicendo una cosa non vera. Noi crediamo che la prima attuazione di questa flat tax possa essere innanzitutto dalla diminuzione della pressione fiscale una riduzione delle aliquote. Oggi sono 5%, domani e possono diventare con un costo copribile 3%, 23%, 27%, 43%. Vuol dire che siamo andati ad aiutare il ceto medio che è quello che più ha sofferto. È importante aiutare anche quelli che soffrono più di tutti, cioè i poveri, quelli che sono ridotti in stato di povertà, e aumentiamo da 8 mila a 12 mila l'anno taxaria. Tutto questo ha un costo che è di 12 miliardi. L'operazione di Matteo Renzi, 80 euro, era di 10 miliardi. Cioè 12 miliardi è un'operazione di legge di bilancio che uno può fare. È chiaro che fai quella cosa e non puoi farne altre. Però la vostra non è una flat tax, Lupino. No, la nostra è una tappa di avvicinamento, dice lei. Esatto, perché la flat tax... È una middle tax. È? Una middle tax. Però è il primo modulo per avvicinarsi, perché è evidente che più abbassi la pressione fiscale, più dai risorse per la crescita, per lo sviluppo, per l'aumento della domanda, per l'aumento dei consumi, e quindi si può immediatamente trovare un secondo modulo che poi porti alla tassazione 1. E in che tempi lo prevedete? Entro la legislatura. Quindi entro i 5 anni, la prima fase, 3 alicote, e poi quando si può... Questa è la proposta ovviamente di noi con l'Italia. E nel frattempo noi chiediamo invece che, visto che tutti si sono riempiti, grazie a Dio, non solo più la bocca, ma anche il cuore e la testa, con l'idea che la famiglia è al centro e che la natalità è uno strumento importante, non più solo la bandiera dei cattolici, a seconda di chi era cattolico faceva i tre figli, 7, 8, 12, 15, 27, ma un paese se non mette al mondo dei figli è morto. Quindi nel frattempo l'altra priorità è sostegno alla famiglia e sostegno alla natalità. Quindi nella flat tax ovviamente è tutto un altro sistema che viene rivisto, ma nei tre moduli, nelle tre alicote, dobbiamo introdurre almeno finalmente questo fattore famiglia che dice che se uno ha un figlio, se uno ha due, se uno ha tre, è leggermente diverso. E il problema delle migrazioni che è sempre al centro di questa campagna così infuocata, Berlusconi ha superato a destra, vien da dire Salvini, quando ha detto e poi ha ripetuto, l'ha fatto anche stamattina, che bisogna rimandare a casa 600 mila immigrati. Noi con l'Italia lo superiamo al centro, nel senso che io credo, e lo dimostra la storia dell'Italia, che sia assolutamente possibile, e non sono in contraddizione, conciliare il diritto e il dovere della difesa dei propri confini, del decidere chi può e deve entrare nel tuo paese a seconda delle esigenze che hai, con il diritto e il dovere all'accoglienza. C'è un elemento importante, l'accoglienza o è dignitosa o non è accoglienza, perché noi stiamo accogliendo delle persone, non è che stiamo accogliendo delle merci. Quindi, quando, e noi dobbiamo creare le condizioni perché l'accoglienza sia dignitosa, non che sia, li mettiamo, appunto, credo che questo per dire come una forza moderata, se una cosa del governo è stata fatta bene, si dice che è stata fatta bene. Lo riconoscete, diciamo. Per esempio, questo passaggio finalmente dai grandi centri di accoglienza, invece un'accoglienza diffusa, secondo me è la strada assolutamente da percorrere, perché nei grandi centri di accoglienza, altro che dignità della persona, si crea degrado e non si fanno accettare le persone. Allora, l'accoglienza dignitosa avviene con le quote, cioè tu, un paese, non può sopportare più di un tot di accoglienza, se no non è più dignitosa. Il tema dell'Europa e delle quote di accoglienza di un paese rispetto all'altro è un tema fondamentale. Quindi dire, quote fisse per l'Italia, oltre questo non possiamo accoglierle e quindi non possiamo più, dobbiamo rimandarli indietro, credo che sia una proposta di centrodestra seria e moderata. Ma l'intervento di Minniti e appunto gli sbarchi ridotti nell'ultimo anno e ancora nei primi due mesi di questo, come giudica la sua azione e quindi il governo Gentiloni? Devo dire che su questo faccia spessare anche una lancia a favore della continuità Minniti e Alfano. Io credo che il governo Gentiloni abbia seguito poi la strada che occorreva seguire, che è quella di interventi nella politica estera e nella politica internazionale di dialogo con i paesi del Nord Africa. E Alfano non l'ha fatto. No, ha creato le condizioni per farlo, non è che non l'ha fatto. Adesso non voglio difendere Angelino che è un carissimo amico e si difende da solo, però è evidente… Mi siete anche divisi. No, ma sì, grazie. No, lui si è diviso da se stesso in qualche modo. È evidente che quando in Libia non c'era nessun interlocutore istituzionale politico, tu potevi fare l'accordo allo specchio con te stesso. Nel momento in cui si sono create le condizioni, premessa del precedente governo, perché anche in Libia potessero esserci dei riferimenti istituzionali è stato più semplice. Comunque Minniti credo che abbia fatto un'ottima azione nella linea che stiamo dicendo. Questo è interessante, però non l'ha fatto troppo facile. Poco di sinistra. Berlusconi. Sarebbe un buon ministro anche per voi, Minniti. No, credo che sia un ottimo ministro del centro-sinistra, non del centro-destra. Ma non la fa troppo facile allora Berlusconi quando parla di respingimenti, visto che non abbiamo accordi con tanti paesi, visto che comunque i costi sono molto alti, visto che l'Europa ancora queste quote non le rispetta in alcun modo, allora sarà un processo lungo. Nel governo 2008-2011, quando gli accordi internazionali si sono fatti e c'erano interlocutori istituzionali, piaccia o non piaccia, si chiamava Gheddafi uno di questi interlocutori, poi venne la primavera araba e qui potremmo aprire una lunga discussione, poi alla fine il sbarco del fusso di immigrati nel nostro paese. Sì, era un po' un altro mondo. D'accordo, però dice che quella strada è una strada al percorro. Le posso dire una cosa dove ha sbagliato il centro-destra? E spero se ne stia accorgendo, aver diminuito i fondi per la cooperazione internazionale. Se tu vuoi ragionare, vedo che lo fa Salvini, lo dice la Meloni, lo dice Berlusconi, perché dobbiamo aiutarli e lavorare lì, allora un paese come il nostro non diminuisce i fondi alla cooperazione internazionale, ma li aumenta, perché la cooperazione internazionale è lo strumento per attivarlo. Io ho seguito da Ministro delle Infrastrutture un pezzo della politica anche di possibilità delle nostre imprese di andare a lavorare in quei paesi, ma le imprese italiane, lo dico con forza e dovremmo averne un po' più di coscienza, rispetto alle imprese cinesi sono accolte più favorevolmente delle imprese cinesi, per una cosa, perché non vanno solo lì a prendere i soldi e a realizzare la cosa e a scappare, perché formano, cioè formano gli operai con cui lavorano, è un investimento in capitale umano. Non c'è dubbio, senta io ritorno all'economia, perché in questo caso invece parliamo di qualcosa che ha gettato in pasto agli elettori in campagna elettorale Berlusconi e non Salvini, parlo del condono edilizio prima e della grande sanatoria delle cartelle sattoriali, poi che sta effettivamente nel programma in dieci punti che avete sottoscritto, in questo caso a smarcarsi è stato Salvini e anche la Meloni che ha detto basta con promesse d'accetto la qualunque, non le crea qualche imbarazzo che il, non possiamo definirlo candidato perché Berlusconi è incandidabile, però che Berlusconi presidente, come sarà scritto sulla scheda di Forza Italia, comunque leader del suo partito e auspicabilmente dal suo punto di vista anche del suo schieramento condannato per frode fiscale riproponga un condono agli italiani. Allora, intanto lo chiariamo ancora una volta, il leader del nostro partito non è né Berlusconi, né Salvini né la Meloni. Schieramento auspicabilmente dal suo punto di vista. No, lo dico ma non per polimia, perché la legge elettorale prevede esattamente che ogni partito indichi il proprio capo della lista politica, noi abbiamo indicato Raffaele Fitto. Noi chiediamo di votare, noi con l'Italia, non Forza Italia, non Lega, non Fratelli d'Italia. Da questo punto di vista è assolutamente legittimo che ci siano diversificazioni e differenze nei diversi programmi, anche per dire, elettore, di tu dove dobbiamo andare? Sono due cose diverse, il condono edilizio e la sanatoria delle cartelle, piuttosto che un tema di... Mi piacciono tutti e due? No, il condono edilizio secondo me è una strada da non percorrerlo, lo dico da Ministro delle Infrastrutture e da Assessore all'Urbanistica di un Comune importante... Lo sai che c'era anche una domanda che faceva riferimento proprio a questa sua esperienza da Assessore? All'Urbanistica del Comune di Milano. Io credo che tanto più in questi momenti, oggi strade del condono edilizio non aiutano, non aiutano neanche alla semplificazione, alla certezza dei tempi e allo sviluppo di un territorio, di un paese, di una città che deve mettere insieme sviluppo e difesa dell'ambiente. Oggi le competitività tra città avvengono innanzitutto sulla qualità della vita, sulla qualità dell'ambiente, sulla competitività anche riguardo alle infrastrutture e servizi che vengono offerti. Il consumo del territorio è uno degli elementi su cui iniziare a riflettere, lo dice uno che viene dalla cultura e dalla politica del centro-destra. Ovviamente non dobbiamo irrigidire tutto, ma dobbiamo dire quali sono i servizi. Quindi il condono edilizio è una sconfitta. Il condono edilizio è una sconfitta. Il sanatorio dalle cartelle satanali. Io credo invece che a fronte di una riforma fiscale e a fronte di una nuova, lo stiamo facendo, noi stiamo chiedendo proprio di ripensare complessivamente al sistema fiscale nel nostro paese e una volta che tu hai fatto si può andare a sanatorio. Tra l'altro mi sembra che anche il governo che è appena passato ha fatto da questo punto di vista un'azione di recupero sanando o individuando una serie di punti che potessero permettere di introitare di più e ovviamente di fare emergere evasioni che c'erano. Pensi al ritorno dei contanti. Anche la riformazione delle cartelle satanali ha fatto questo governo nell'ultima manovra economica. Quindi si può fare una cosa di questo genere. Dati questi distinguo, lei sta al centro-destra come Bonino sta al centro-sinistra. No, io sto al centro-sinistra. Questo è un buon paragono. Io spero che la Bonino, che tra l'altro è stata ministra con me degli esteri nel governo Letta, superi abbondantemente il 3% proprio perché porterà più equilibrio a quella coalizione. Per questo le piace allora il paragone? Molto. Perché vuole arrivare al 3%. E mi auguro e sono abbastanza certo, ricordo le elezioni europee, noi abbiamo preso 1.200.000 voti, mi auguro che anche questa volta con il 4,4% possiamo superare abbondantemente il 3%. C'è una domanda di un'elettrice, sono arrivate diverse. Lei si chiama Valeria, scrive da Milano, quindi la sua città. Si fa sempre più insistente il nome di Tajani come possibile leader del centro-destra. Questa mattina su Radio 1 Berlusconi parlando del Presidente del Parlamento europeo ha detto sono vincolato da lui per l'altissima carica che ricopre a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione. Insomma, va come se fino adesso non avesse parlato. Lei, che idea si è fatto? Io credo che Berlusconi avesse bisogno di autorizzazioni soprattutto. Che idea si è fatto di una simile candidatura premier? Credo che conosciamo tutti Berlusconi abbastanza. Sì, che idea ne ha? Ma io credo che Tajani sia uno dei punti di riferimento di tutti noi nel Partito Popolare Europeo e in Europa. Tra l'altro è diventato dopo tantissimi anni, non so quanti decenni, di nuovo un Presidente del Parlamento europeo, abbiamo avuto un Presidente del Parlamento europeo italiano. Sarebbe un segnale interessante, un segnale forte a proposito del più Europa e un'Italia che vuole cambiare l'Europa, a proposito del non uscire dall'Euro, a proposito di rapporti internazionali che potrebbero ovviamente servirci nel proseguire la crescita in Italia, in un'Europa che deve cambiare con un'Italia che ha più peso e credo che rappresenti certamente una, quell'idea di governo e di guida moderata che noi abbiamo, di cui noi possiamo pensare. Quindi Tajani è un buon candidato. Mi sembra che sia un ottimo candidato. E Salvini al Viminale perché Berlusconi ha anche deciso questo. Credo che Salvini si fa, a parte il fatto che può fare assolutamente bene, come non c'è, c'è già stato un ministro leghista al Quirinale, si è chiamato Maroni e attenzione a dire che Maroni è diverso da Salvini. Perché Maroni è abbastanza diverso. No, adesso noi lo diciamo, ma Maroni è sempre stato e ha sempre rivendicato, perché noi oggi diciamo che Salvini è diverso dal Bossi, ma ci siamo dimenticati che chi era Bossi, io ho grande stima per Umberto Vincenzo. Sì, però è un dato che Maroni non si riconosce più nella lega di oggi. Secessione, armiamoci, disurviamo, eccetera. No, no, chi se lo dimentica. Allora, quando tu rientri nella sfida di governo istituzionale, quei temi diventano positivi. La secessione è diventata federalismo. Allora, un ministro degli interni che ha a cuore il tema della sicurezza in un contesto istituzionale secondo me può far molto bene. Rimane nella casella cruciale che è quella dell'economia. Va bene Brunetta? Perché anche lì Berlusconi si è portato avanti. Il toto ministri non mi entusiasma e vedo che non porta fortuna a chi lo fa prima. Vedo che il candidato presidente del Consiglio ad occupare la poltrona della Presidenza del Consiglio, del Movimento 5 Stelle, che hanno sempre detto che non vogliono occupare poltrone, no? E tanto è vero che si candidano ad occupare una poltrona, cioè quella della Presidenza del Consiglio non gli ha portato molto bene, non gli sta portando molto bene questo elenco dei ministri. Quindi io direi intanto in questi ultimi giorni preoccupiamoci di rendere, spero, ancora più seria e più credibile la proposta di governo del centro-estera nelle sue diversità e che credo che le differenze possano solo, quando si è in coalizione, possono solo diventare ricchezza. Ma anche lei pensa che sia un pericolo, come pensa Berlusconi, un pericolo mortale la vittoria del Movimento 5 Stelle, una setta più pericolosa dei comunisti di vent'anni fa, dice sempre Berlusconi. Io credo che noi in questi anni abbiamo fatto un grandissimo errore nei confronti del Movimento 5 Stelle, demonizzarlo, perché se c'è un solo modo per evitare che gli italiani scelgano una proposta che io ritengo diversa dalla mia, ritengo che quando hanno governato nelle città si sono dimostrati incompetenti, però è legittima assolutamente quella di dimostrare che tu sei più credibile, più serio, che quando vai a governare non fai schifo, perché se in Sicilia ci sono stati due governi, uno di centrodestra e uno di centrosinistra e non mi sembra che abbiano avuto grandissimi risultati, non è che i siciliani sono diversi dai lombardi, vorrà dire che poi alla fine muoia Sansone con tutti i filistei e questo è un dramma della democrazia, quindi mai demonizzare l'avversario, in particolare il Movimento 5 Stelle, rispondiamo con credibilità, la Lombardia è l'esempio, a Milano città noi abbiamo perso, il centrodestra ha perso, ma ha candidato Parisi e dall'altra parte la sinistra ha candidato Sala, abbiamo governato entrambi, prima il centrodestra e poi il centrosinistra, si poteva dire tutto, ma meno che non ci sia stata una politica seria, credibile quando ha governato, il Movimento 5 Stelle ha preso il 10%, o ha vinto Sala, non è morto nessuno, io spero che Berlusconi sbaglia, Berlusconi sbaglia, a dire Di Maio è uno che non ha mai lavorato, non gli farei fare neanche il fattorino a casa mia, il giudizio può essere pertinente, ma non è quello che convince a votare te, noi dobbiamo convincere perché siamo più credibili, quando abbiamo governato dove siamo stati credibili, avere il coraggio di dire dove abbiamo sbagliato, perché se ovviamente abbiamo perso tutti questi voti da qualche parte avremmo sbagliato, è indicare la strada, sul reddito di cittadinanza, io non demonizzo Di Maio, ma dico che per me il reddito di cittadinanza è una proposta sbagliata e devo avere il coraggio di dire che è sbagliata, perché? Perché uno non finanzia, e qui quanti discutono, la disoccupazione, ma deve finanziare l'occupazione, quindi se ho 20 miliardi non li metto a reddito di cittadinanza, ma li metto a sostegno delle imprese che sono quelle che danno il lavoro, il lavoro non lo dà lo Stato e diminuiscono il costo del lavoro delle imprese, pensi quanto potrei diminuire il costo anche sulla busta paga degli operai o dei dipendenti e ho ricreato lavoro, in questo modo devo avere il coraggio di contrastarlo, che non è adeguata quella proposta, che non è sufficiente, la polemica di questi giorni è evidente, governare una città così come Roma, ma è un dato evidente, allora contestiamoli su quello e non avrà la laurea, avrà fatto lo steward, che mi frega, io mi sono laureato ma sono andato anch'io a San Siro a vendere le bibite quando ero ragazzino, credo che sia da questo punto di vista, mi vedevo le partite ma da questo punto di vista mi prendevo anche un po' di soldi per pagarmi l'università. Ma è interessante questa posizione. Ma quindi il suo primo avversario in queste elezioni chi è? Il mio primo avversario è cercare la sfiducia della gente, io credo che noi continuiamo a la gente a votare, ma a ridargli fiducia, per esempio anche qui secondo me noi dobbiamo smetterla, parlo di una politica moderata, di dire solo le cose che non vanno e per un politico è facile dire che le cose non vanno per prendere i voti perché se non sei stato il governo e ci fa tutto schifo vota me, è molto più difficile indicare la strada positiva e andare anche a cercare gli elementi positivi perché se uno pensa ai ragazzi e ai giovani non si muovono con delle prediche, ma si muovono quando ci sono dei punti di riferimento positivi, allora indichiamo, ci sono delle eccellenze, voi ogni tanto anche su Repubblica raccontate queste eccellenze, le eccellenze ma nelle imprese, le eccellenze nel mondo del volontariato, le eccellenze, allora quella è la strada con cui, nell'accoglienza, cioè quella è la strada da indicare per combattere gli elementi negativi. Senta, l'ultima cosa, almeno per quello che mi riguarda, realisticamente bisogna tenere in considerazione un'ipotesi, e cioè che non vinca nessuno, potrebbe succedere, io non lo auspico, nessuno lo auspica, però numeri alla mano, almeno finché i numeri si potevano pubblicare, ora si possono vedere ma non pubblicare, la possibilità che non ci sia una maggioranza non si può escludere, allora in quello scenario lì, secondo lei, secondo noi per l'Italia, qual è la formula migliore? Va avanti Gentiloni? Si fa un governo di scopo per rifare la legge elettorale? Si fanno le larghissime intese? Si fa PD Forza Italia, la grande coalizione? Qual è il vostro schema preferito? Se ce n'è uno. Siccome a me piace oltre a... Non mi dica che vincerà il centrodestra, perché già lo so, questo lo dicono... Ma lei lo sai, infatti, grazie, votate noi con l'Italia per far vincere il centrodestra, un bello spot pubblicitario, però a me piace la maratona, mi piace anche molto il calcio, se c'è la finale di Champions League e per un paese ovviamente le elezioni politiche sono la finale, cioè si decide chi deve governare l'Italia dal 2018 al 2023, non è che io entro negli spogliatoi e dico perdo o voglio pareggiare, quindi secondo me è un errore veramente fare questi ragionamenti, ma non perché non potrebbe accadere, perché in questo modo tra l'altro si crea ulteriore sfiducia nei cittadini, perché se io oggi dico tanto non vince nessuno, perché ti devo chiedere di andare a votare? Ma io ti voglio dire che il tuo voto è importante per far vincere qualcuno, chiunque sia, chiunque sia, abbia una maggioranza politica, perché questo dà forza alla politica e alle istituzioni, nel momento in cui non c'è è una sconfitta di chiunque di noi ha fatto quella proposta politica e allora ci saranno le strade davanti, la Spagna ha seguito una strada e poi ha dovuto farne un'altra, la Spagna è andata a votare due mesi dopo, e poi quindi una delle ipotesi che c'è in campo. Ma con la stessa legge nel caso in Italia, ma dicono che adesso in Italia si potrebbe andare a votare con la stessa legge? Beh, direi vediamo come funziona, perché se dovessimo accorgersi che una legge elettorale non funziona, quando non funziona una legge è un doppio senso, però la Spagna però dopo è andato a votare la seconda volta, ha fatto un governo, in questo caso di minoranza sostenuto dal Partito Socialista Spagnolo, e voi tutti sapete, mi spiace se è così, ma che il Partito Socialista Spagnolo si è spaccato su questo. Certo. La Germania ha seguito un'altra strada, prima Schultz che aveva fatto le larghe intese ha detto no, 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 ha cercato di seguire un'altra strada, dopo quattro mesi l'interesse nazionale di qualcuno che ha tirato per le orecchie, i tedeschi sono forse un po' più bravi nell'interesse nazionale di noi, l'ha tirato per le orecchie a tutti, gli ha detto oh, calmatevi un attimo, e adesso caro Schultz. Vediamo domenica, perché domenica avutano pure loro. Sì, però voglio dire, io non so qual è la formula preferita o la strada migliore, io ritengo che la strada migliore sia veramente quella di non dire, non di nascondere la verità, ma di chiedere non solo di andare a votare in tanti, ma di avere il coraggio di scegliere una proposta politica, ritengo che la maggioranza di centrodestra sia l'unica che possa avere la proposta di centrodestra una maggioranza politica e quindi, anche grazie alla proposta che alla fine si vedrà decisiva, che noi abbiamo messo in campo, possiamo avere questa maggioranza, quando noi diciamo si governa solo con il centro, non è solo un problema numerico, anche, e me lo auguro che lo si dimostri, ma innanzitutto di serietà della proposta politica, il centro è quella, idea di politica, ci spiace, alcuni dicono che del passato è moderato, quando uno è arrabbiato, non è che non è moderato, i moderati si arrabbiano, però sono persone serie e equilibrate, vogliamo tornare a un paese normale. I moderati e il centro sono il sacro grallo della politica italiana, ormai da molti anni tutti lo cercano e si fa fatica a trovarlo. Qualcuno ha cercato di rappresentarlo nel 2013 e poi purtroppo si è sciolto, questa è l'esperienza di Monti, che comunque prese il 10%, non è che prese in un sistema assolutamente bipolare era allora, quindi si può dimostrare che si ha il coraggio, si ritorni, io in questi giorni ho incontrato, ho fatto tanti incontri con imprenditori, il vecchio Presidente, il past Presidente di Confindustria, la domanda in un dibattito in cui c'era anche io, cosa chiede alla politica e oggi è sempre il Presidente della MAPEI, uno dei più grandi gruppi multinazionali, internazionali di Giorgio Squinzi, ha risposto a una cosa che per noi è il nostro programma, è il mio, dateci un'Italia normale e il resto lo facciamo noi, io credo che dovremmo tutti riflettere, destra, sinistra, centro, che cosa vuol dire ridare agli italiani un'Italia normale, perché forse i voli pindarici, forse i miracoli non servono, servono per un'Italia normale, bisogna rimettere, avere la coscienza di chi è il protagonista dell'Italia. Sai che un paese normale era il titolo di un libro di Massimo D'Alema del 1996, secondo me. Pensi ai corsi e ricorsi storici, secondo me… Sì, 22 anni e ancora stiamo qui a aspettare il paese normale. Esatto, lei la storia sa che si ripete, anche per le mancanze della politica. La prima volta in tragedia in genere. Esatto, speriamo di no, che non sia né farsa né tragedia. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a voi, grazie a voi.